ciao ragazze ciao a tutte e a tutti allora nuovo video spacchettamento finalmente è arrivato buona pasqua a tutti buona pasqua a tutti allora eccomi qua l'uovo di clio e niente di spacchettarli assieme dai allora vediamo un pochettino se mi riesce qui di spacchettarli perché non sono tanta grande aspetta che io abbasso un po per qui è una cosa allucinante vedete ok sto cercando di fare veloce perché ho spetti e non voglio farli aspettare troppo ecco qua il primo pezzo è andato di via e poi qui ecco qua non la saccio perché non va ragazze lo facerò off camera poi vedrò tutto nell'info box come è andato poi vedrò un altro video ecco qua questo è l'uovo non so se si nota eccolo qua e niente ragazze la sorpresa vorrei vedere un altro video perché al momento non so cosa ci troverò quindi però dirò in un altro video cosa ci sarà di sorpresa quindi a presto ciao ragazze unico zombie apocalypse